Muoversi Meteo Nuova intensificazione della nuvolosità in serata associata a locali precipitazioni. I venti spireranno nord-occidentali con locali rinforzi al mattino, soprattutto sulle zone costiere e con locali raffiche. Il mare si presenterà agitato, molto agitato, ma con moto ondoso in graduale attenuazione. Le temperature diminuiranno sensibilmente nei valori minimi e levemente anche in quelli massimi, gelate notturne a quote collinari e localmente anche a quote inferiori. Ed è tutto, grazie per la cortesia e attenzione.